nelle città di sodoma e gomorra le persone vivevano facendo cose cattive e brutte quelli di sodoma e gomorra erano molto peccatori e per questo dio decise di distruggere entrambe le città prima presentò ad abramo i suoi piani abramo gli chiese di avere compassione di non distruggerle che forse c'erano uomini buoni lì lott il nipote di abramo viveva a sodoma con la moglie e le due figlie degli inviati di dio gli dissero di lasciare la città con la sua famiglia e di non guardare indietro perché sarebbero diventati statue di sale cominciò a scendere fuoco dal cielo e le due città furono distrutte si salvarono lot e le sue figlie ma sua moglie aveva guardato indietro diventò una statua di sale